Quando sono arrivata qua ad ottobre ero molto spaventata, non sapevo che cosa mi poteva aspettare perché comunque non conoscevo nessuno, lontana da casa, i professori, le materie, non sapevo bene che cosa stavo andando a fare, però devo dire che comunque mi è piaciuto fin da subito stare qui, soprattutto con la danza perché appunto c'è la ballerina, sto andando molto a migliorare quello che è il mio settore e che spero sia il mio lavoro in un futuro. Per quanto riguarda anche la recitazione, non ero entusiasta di farla perché appunto non sono una persona a cui piace molto parlare in pubblico, che si vergogna, timida, però comunque già dalle prime lezioni il nostro professore è saputo coinvolgerci a tutti e infatti poi da lì ha cominciato a piacermi. Il canto, allora, pensavo che fosse una materia più facile, cioè arrivi, fai una canzone e basta, invece è molto molto difficile, sto riscontrando anche delle difficoltà, tipo nel riconoscere le note, cioè la giusta nota che devo andare a prendere, molto molto difficile, però comunque anche grazie ai professori che mi stanno aiutando, sto riuscendo a migliorare, a superare questi ostacoli. Non avevo mai pensato di cantare o di recitare soprattutto mai, cioè appunto ero molto dritta sulla danza e basta. Allora, dall'anno prossimo mi aspetto tante cose, cioè intanto comunque avere ancora più sicurezza di me stessa, perché diciamo che ancora non sono una persona molto sicura di me, qualche insicurezza ancora c'è. Di spingere di più in tutte le materie, di riuscire a fare meglio.